L'Icurgo, re di Sparta, lo racconta Plutarco, aveva emanato delle leggi per impedire ai propri concittadini di andare in giro e di riportare a Sparta parole nuove e idee nuove, perché le parole nuove portano idee nuove e le idee nuove corrompono i buoni costumi di Sparta. Orwell, nel 1984, mai abbastanza citato e lodato, che ruolo attribuisce alla neolingua, al Newspeak? Quello di cancellare la possibilità di pensare cose eterodosse. Chi di voi parla una lingua straniera ha avuto sicuramente l'esperienza di sapere esattamente cosa dire in italiano, ma di non avere la parola per esprimere quel concetto nella lingua nella quale doveva parlare. Ed è una sensazione bruttissima, perché sembra di essere paralizzati. Che cosa c'è di diverso dalla campagna che la Cina in questi tempi ha lanciato per contrastare l'ingresso dei costumi occidentali nel mondo dell'intrattenimento e nel mondo del lavoro? Andatevi a cercare informazioni sul movimento cosiddetto degli sdraiati, Tang Ping, cioè di persone che, rifiutando l'etica del lavoro imperante in Cina, preferiscono passare il tempo sdraiati perché non vedono un domani, non vedono una possibilità di evoluzione del loro stato sociale. Quindi, fra Licurgo e Xi Jinping, c'è veramente tutta questa differenza dal punto di vista del controllo sulla cittadinanza, sui sottoposti? Beh, quello che possiamo concludere comparando queste due esperienze, ancorché concludere in modo ovviamente rozzo, è che esiste un modello culturale volto all'autopreservazione del potere che prescinde dal contesto ideologico nel quale questo modello opera. E questo ci porta inevitabilmente a chiederci chi decida la superiorità di un modello culturale e quale sia il limite alla sua protezione, cioè fino a che punto uno Stato può spingersi, un esecutivo può spingersi per garantire la sopravvivenza di questo modello culturale. E la risposta non possiamo darla noi giuristi, perché inevitabilmente la valutazione è di tipo esclusivamente, esquisitamente politico. Il punto è che non sono più soltanto gli Stati, non sono più gli Stati, perlomeno dalle nostre parti, i soggetti che sono in grado di rispondere. Di fronte a quei motivi di cui abbiamo parlato prima, policentricità del potere, assenza di condivisione sulla necessità di rispettare regole condivise e via discorrendo. E qual è la reazione degli Stati, di autodifesa degli Stati? Alcuni lo hanno già fatto, alcuni non lo hanno fatto ancora e altri sono su questa strada. Passare dal rule of law al rule by law. Qual è la differenza fra rule of law e rule by law? Il rule of law sappiamo che cos'è. Il rule by law è considerare la legge come uno strumento di controllo sociale al pari di altri componenti, la religione, i riti pubblici e via discorrendo. Questo significa che la legge diventa uno strumento e non è più invece un limite all'operato del potere. Ci sono alcuni esempi storici recenti sulla base dei quali, per esempio, gli Stati hanno cercato di imporre, di riprendere un minimo di controllo sull'industria delle tecnologie dell'informazione. Penso alle leggi sulla localizzazione nazionale dei dati, il tentativo dell'Italia di istituire questo perimetro, questo triste perimetro cibernetico di sicurezza nazionale. Ma nello stesso tempo però abbiamo anche la resa totale nella gestione dei servizi pubblici. Pensate alla scuola, all'università, alla giustizia, pensate al progetto del cloud per la pubblica amministrazione. Di tutto stiamo parlando, tranne che di sovranità digitale italiana e quindi della possibilità di opporsi a forme di tecnocontrollo che a questo punto scalano verso una dimensione geopolitica più ampia rispetto alla dimensione nazionale interna. E quindi possiamo cominciare a dire che la sicurezza nazionale oramai è diventata un colosso di rodi. Perché? Perché non è più esclusivamente gestita dallo Stato. Nel momento in cui è diventata una gestione condivisa, ed è diventata una gestione condivisa per legge, non per ipotesi, perché gli internet provider fanno parte a tutti gli effetti della filiera e via discorrendo. Quindi nel momento in cui la sicurezza nazionale è diventata un'attività condivisa, vuol dire che le decisioni dello Stato, anche quelle legate alla estensione della tipologia del controllo, non sono più autonome, ma diventano necessariamente eterodirette da chi ha il controllo effettivo delle tecnologie che poi di fatto sono di proprietà grandemente straniera. In che modo quindi le tecnologie dell'informazione stanno cambiando diritto e società? Alimentano idee politiche e culturali? che contribuiscono alla costruzione o alla distruzione del consenso, creano gruppi di potere, ma anche di disordine organizzato e di comportamenti antisociali. C'è in realtà un tema che tratto analiticamente in questo libro sui digital rights, che riguarda per esempio l'abolizione del diritto di proprietà, l'abolizione di fatto del diritto di proprietà, legata all'everything as a service. Nel momento in cui rinunciamo al diritto di proprietà non abbiamo più nessun radicamento con il luogo, potremmo essere oggi a Milano, domani a Tijuana e dopodomani a Bangalore, perché tanto qualsiasi servizio lo troviamo comunque e dovunque, e dunque nel momento in cui perdiamo il contatto con il nostro mondo, non abbiamo più bisogno di rispettare regole o di condividere valori. Per altri versi, la solitudinizzazione indotta dalla diffusione oramai ubiqua delle piattaforme di social network crea quello che ho chiamato il capitalismo della solitudine. Nel momento in cui si rompe la dinamica della relazione sociale fra persone, sostituendola da una mediazione come purtroppo quella che per esempio stiamo vivendo noi in questo momento, viene meno nell'equazione UB societas, UB use l'elemento della societas. Se viene meno l'elemento della societas, automaticamente non è più necessario e quindi si crea un sistema nomadico e monadico sulla base del quale non c'è più la funzione della norma. non c'è più la necessità della norma. Troviamo alcuni indici di quello che stiamo di quello che sto dicendo nel modo in cui ci siamo relazionati ai temi del tecnocontrollo durante il periodo della pandemia. Se andate a guardare quello che è successo a Taiwan e in Corea del Sud, un utilizzo estremamente efficiente di database, tracciamento e via discorrendo ha consentito un tracciamento, un controllo dei contagi estremamente più efficiente di quello che è successo in Italia dove a un certo punto una regione italiana ha dovuto dire non ce la facciamo più, non era una regione particolarmente grande e ciò nonostante non riuscivano più a eseguire il contact tracing. Qual è stato uno dei motivi per il quale alla fine non è stato, non ha funzionato il sistema del contact tracing? L'ossessione per la privacy. Ricorderete quando si è trattato di utilizzare l'app Immuni che aveva altri problemi di altro tipo per carità, ma c'è stata un'elevata di scudi in nome di una sfittica concezione della privacy che ha nei fatti paralizzato la possibilità di fare un contact tracing efficace come è accaduto appunto in paesi come Taiwan e Corea del Sud che, lo dico per chi non fosse esperto di quelle dimensioni, sono tutt'altra cosa che la Cina e sono delle democrazie dove il contrasto, dove la lotta politica è estremamente virulenta, dove non c'è un regime autoritario e dove quindi la consuetudine e la trasparenza dei governi nel corso degli anni ha fatto sì che una volta che fosse stato necessario dover accedere a determinati strumenti di controllo, la popolazione abbia accettato questo fatto perché ha avuto la possibilità di sperimentare nel corso degli anni che gli investimenti in tecnologia non hanno, non si sono tradotti in una limitazione delle libertà individuali. Un altro elemento che è stato evidenziato dal modo in cui è stato gestito il tecnocontrollo durante la pandemia è la confusione sui criteri per la raccolta, per la classificazione, ma soprattutto per la comunicazione dei dati. È di queste settimane la polemica del dobbiamo togliere alcune categorie dai numeri perché se no rimaniamo in zona rossa, in zona gialla, quello che sia, scritto in tempi non sospetti, quindi nel 2020, questa scelta ricorda quella di uno che a questo punto può essere solo considerato un dilettante in argomento e cioè l'allora ministro della salute Dona Cappenna che per chi di voi è abbastanza vecchio all'epoca di fronte alla necessità di dover gestire un inquinamento di atrazina di falde acquifere risolse il problema alzando per lei per decreto i valori di potabilità dell'acqua nulla di diverso anche se su scala molto più grande rispetto a quello che sta accadendo adesso quindi un'altra componente del tecnocontrollo pubblico è la incapacità degli esecutivi di confrontarsi con i temi della scienza e della tecnologia e viene obbligatorio a questo punto chiederci se serve ancora il sistema del rule of law come argine al bilanciamento di esigenze contrapposte ma che non possono vivere di una radicalizzazione frontale ma che necessariamente devono poter convivere con la mediazione della funzione giurisdizionale il dato di fatto è che siamo di fronte a una sostanziale perdita di ruolo del sistema dei diritti certificata questa perdita di ruolo dallo spostamento del confronto dal momento giuridico al momento etico mai come in questi ultimi anni alla legge è stata sostituita l'etica addirittura individuale e quindi vuol dire che adesso stiamo progressivamente ma inevitabilmente passando dal governo della legge all'impero della doxa dell'opinione e il che significa purtroppo che con buona pace di Platone che fece vincere Socrate nel suo dialogo contro Gorgia nella sua polemica contro Gorgia fra i due oggi chi avrebbe vinto chi sta vincendo è proprio il signore dei retori grazie grazie grazie